Benvenuti sulle videoguide di lofaionline.it In questa videoguida, vediamo come disdire l'abbonamento a Gemini Advanced, il piano premium di Google One che include l'intelligenza artificiale. Dal sito di Gemini, per disdire il tuo abbonamento prima di tutto clicca su Impostazioni, che trovi nel menu laterale di sinistra. Da mobile, devi aprire il menu cliccando sulle tre linee in alto a sinistra, e poi cliccare su Impostazioni. Si aprirà a questo punto un nuovo menu, da cui devi cliccare su, Gestisci abbonamento. Verrai così mandato alle impostazioni di Google One. Nell'elenco, individua e clicca sull'ultima voce, Cancella abbonamento. Si aprirà una sottosezione, dove devi cliccare su Annulla. Un avviso ti chiederà conferma, e per proseguire clicca su Cancella abbonamento. Se tutto è andato a buon fine, hai disdetto l'abbonamento a Gemini Advanced. Puoi gestire l'abbonamento anche tramite il tuo account Google. Per farlo, per prima cosa vai su Google, accedi con il tuo account. Se non è già fatto, poi clicca sulla tua immagine profilo, o iniziale del nome, che vedi in alto a destra. Dal menu che si apre poi, clicca su Gestisci il tuo account Google. Nella nuova pagina, se sei da computer, devi cliccare su Pagamenti e abbonamenti, che trovi sulla sinistra. Da telefono, devi scorrere verso sinistra il menu orizzontale in alto, fino a trovare la voce Pagamenti e abbonamenti su cui cliccare. Scorri poi verso il basso per trovare la sezione Abbonamenti, e clicca su Gestisci abbonamenti. Ora, dall'elenco di tutti gli abbonamenti, clicca su Google One, Google One i Premium. Nella nuova pagina vedrai tutti i dati dell'abbonamento. Verso il fondo, clicca su Annulla abbonamento. Si aprirà un riquadro che ti chiede il motivo dell'annullamento. Seleziona una delle voci, e poi clicca su Continua. Un avviso, ti informa che potrai continuare a usare il servizio fino alla data di termine, e per terminare, clicca su Annulla abbonamento. Avrai così disattivato l'abbonamento a Gemini Advanced. Se utilizzi l'app di Gemini, per disattivare l'abbonamento devi cliccare in alto a destra sulla tua iniziale o immagine profilo, e poi suggestisci il tuo account Google. Procedendo poi ad annullare l'abbonamento con il metodo appena visto, cioè tramite Pagamenti e abbonamenti, e Gestione abbonamenti. Ecco spiegato come disattivare l'abbonamento all'AI di Google Gemini Advanced. Se hai avuto dei problemi, contattaci tramite i metodi indicati nella descrizione. Ecco spiegato come disattivare l'abbonamento all'AI di Google Gemini Advanced.